Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono iFiChip e mi occupo di recensire prodotti audio e in particolare prodotti e-fi. Oggi andremo ad analizzare e recensire un prodotto che mi ha mandato l'azienda Arilic, che è un'azienda cinese che progetta e produce amplificatori in classe D molto economici ma molto molto versatili. Sul mio canale ho già recensito un prodotto della Arilic, in particolare la Arilic A50 Plus, che è un piccolo amplificatore integrato con ingressi digitali, telecomando e anche funzionalità streaming. Quindi molto interessante. Se volete andare direttamente al video vi basta cliccare sul banner in alto a destra. Prima di partire con la recensione vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Ora partiamo subito con l'unboxing. La scatola è molto carina, presenta anche il disegno dell'amplificatore. Poi su uno dei lati troviamo tutte le caratteristiche tecniche. Su un altro lato le varie funzioni che ha l'amplificatore. Su un altro lato il disegno del fronte e del rete dell'amplificatore. Infine sull'ultimo lato i contatti dell'azienda come Instagram, Facebook e Youtube. Andiamo ora ad aprire la scatola. Per prima cosa troviamo un foglio che ci indica come accendere per la prima volta l'amplificatore e anche che ha l'applicazione scaricare per effettuare il controllo remoto dell'amplificatore. Poi troviamo il manuale di istruzioni che sembra molto completo ed è scritto in lingua inglese. Poi possiamo andare a togliere l'amplificatore vero e proprio che è incastrato e protetto da una schiuma protettiva. L'amplificatore si presenta molto bene, la finitura è in alluminio nodizzato nero e in particolare la parte frontale presenta anche una satinatura. Un piccolo difetto di questa finitura è che rimangono spesso le ditate quando lo andiamo a maneggiare. Invece la satinatura del frontale evita questo problema. Nella confezione rimangono due piccole scatolette nere. In una troviamo le due antenne per il bluetooth, poi un cavo di alimentazione e infine il telecomando. Nell'altra scatola nera invece troviamo l'alimentatore che è da 24V 4.16A per una potenza totale di quasi 100W. Andiamo ora a vedere il pannello frontale dell'amplificatore. Per prima cosa troviamo la levetta di accensione. Quando viene acceso l'amplificatore si seleziona sull'ultimo ingresso utilizzato, in questo caso come possiamo vedere l'ingresso line. Sempre sul frontale troviamo poi un potenziometro per la regolazione del volume. Infatti possiamo vedere che ruotando il potenziometro andiamo ad aumentare e abbassare il volume. Premendo invece il potenziometro andiamo a cambiare ingresso. Come possiamo vedere, phono, ottico, arc, usb, DAC, bluetooth e se premiamo nuovamente torniamo ancora all'ingresso line. Se teniamo premuto il potenziometro l'amplificatore va in stand by e infatti possiamo vedere che si è accesa la luce rossa in concomitanza della scritta stand by. In questo modo l'amplificatore risulta spento ma rimane comunque attivo per essere pilotato dal telecomando. Tutte queste operazioni e molte altre possono essere effettuate anche dal nostro smartphone, in particolare scaricando l'applicazione GoControl. Una volta scaricata, quando andiamo ad aprirla, ci viene chiesto che tipo di device vogliamo collegare. In questo caso noi andiamo a premere sulla scritta B50 e vediamo che si sta collegando. Ecco, una volta collegato possiamo vedere che abbiamo in alto una sezione in cui possiamo andare a controllare il volume dell'amplificatore. Poi abbiamo i controlli del brano come play, pausa, avanti e indietro. Poi ci viene data la possibilità di collegare ben due dispositivi bluetooth in ricezione, quindi tipo delle cuffie bluetooth o altri apparecchi che possono riprodurre il suono bluetooth. Poi abbiamo la sezione audio source dove possiamo andare a selezionare l'ingresso che viene utilizzato dalla Relic B50, in questo caso è selezionato l'ingresso tv arc, ma posso andare a selezionare bluetooth, line in, phono, optical, usb e anche usb DAC. Successivamente troviamo poi la parte dei controlli di tono, quindi abbiamo il controllo dei toni alti che scende, possiamo ridurre fino a meno 10 db oppure aumentare a più 10 db. Abbiamo poi il controllo dei medi e il controllo dei bassi. Abbiamo poi il controllo del balance tra cassa destra e cassa sinistra. Poi abbiamo max volume che ci permette di impostare il massimo livello del volume, è un limite al massimo livello del volume in sostanza. Poi abbiamo la possibilità di abilitare il crossover per l'uscita sub out e possiamo impostare frequenze dai 50 Hz fino ai 300 Hz. E poi possiamo attivare la funzione deep bass che va ad enfatizzare le frequenze basse. Poi abbiamo anche una sezione che riguarda l'equalizzazione e qui possiamo scegliere un tipo di equalizzazione tra classical, pop, jazz, rock, vocal oppure flat. E poi possiamo anche andare a inserire un'equalizzazione custom, cioè possiamo andare a creare la nostra curva di equalizzazione andando a modificare la posizione dei cursori per ogni tipo di frequenza. Premendo la rotellina in alto a destra ci diamo poi la parte delle impostazioni dove possiamo scegliere il nome del nostro dispositivo, in questo caso è lasciato B50. Possiamo scegliere se attivare o non attivare il led frontale. Possiamo scegliere che tipo di pre-fono utilizzare, se è un pre-fono MC o un pre-fono MM in base al tipo di testina di giradischi che ci abbiamo collegato. Possiamo scegliere se attivare o disattivare la funzione Arc Standby e possiamo scegliere quanto tanto è la sensibilità del volume dell'apparecchio. Poi possiamo disconnettere l'apparecchio, vedere la versione di firmware che c'è installata, l'user manual e poi qua abbiamo delle impostazioni che riguardano l'applicazione come il colore e altre cose che però non mi sembrano molto interessanti. La maggior parte di queste funzioni sono poi anche eseguibili anche dal telecomando che è dato in dotazione, che ci permette infatti di accendere e spegnere il dispositivo, di regolare il volume, di inserire i vari tipi di equalizzazione, di regolare i controlli di tono, di selezionare gli ingressi e anche di mettere in mute e play pausa e controllo delle tracce. Quindi anche il telecomando risulta molto comodo. Andiamo a vedere ora il pannello posteriore con tutte le connessioni che sono presenti su questo amplificatore. Troviamo le due antenne per il bluetooth, poi l'ingresso per l'alimentatore, le uscite per gli altoparlanti, cassa destra e cassa sinistra, l'ingresso per la massa dell'ingresso fono per i giradischi e poi l'ingresso fono destra e sinistra. Poi troviamo il classico ingresso analogico RCA, un'uscita per subwoofer, un ingresso ottico, un ingresso HDMI ARC che è molto comodo, infatti ci permette di collegare il nostro televisore alla Rilic B50 e attraverso il telecomando del televisore controllare sia l'accensione e lo spegnimento del dispositivo, che viene acceso e spento in concomitanza dell'accensione e spegnimento del televisore, ma anche della regolazione del volume che viene effettuata direttamente dal telecomando del televisore. Ovviamente questo avviene se andiamo a collegare tramite HDMI ARC un televisore che è compatibile con questo tipo di tecnologia. Poi troviamo un ingresso USB per pendrive per andare a riprodurre dei brani che abbiamo su una chiavetta, poi un ingresso USB-C per riprodurre l'audio da un computer, infatti questo Rilic B50 funziona anche da scheda audio, possiamo collegarlo tramite USB a un PC e riprodurre l'audio dal PC tramite la Rilic. Infine poi troviamo il tasto RESET che viene utilizzato quando andiamo a collegare dei dispositivi Bluetooth, comunque nel manuale di istruzione è spiegato molto bene. Andiamo ora a vedere le caratteristiche tecniche che dichiara il costruttore, ci viene indicato lo standard Bluetooth che è il 4.6.45.2 e una distanza credo massima di 15 metri, poi ci viene indicato che è in grado di collegarsi a due ricevitori Bluetooth e anche a due trasmettitori Bluetooth, quindi può sia ricevere il segnale Bluetooth che inviare il segnale Bluetooth a due dispositivi contemporaneamente. Poi ci vengono indicati i codi che sono supportati dal Bluetooth sia in trasmissione che in ricezione, molto interessante la presenza della PTX HD sia in trasmissione che in ricezione. Poi ci viene indicata la potenza di uscita con l'alimentatore da 24V che è quello che è in dotazione, abbiamo su un carico da 4 Ohm 50W per 2 e su un carico da 8 Ohm 30W per 2, potenze che poi andremo a verificare nella parte di misurazione. Poi ci viene indicata l'impedenza dei diffusori da 4 a 8 Ohm, la risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz, anche questa andremo a verificarla poi nella parte di misure. Poi il valore di THD più N che è inferiore allo 0.1% a 1 Watt o 1 kHz, il rapporto segnale rumore maggiore di 93 dB. Poi ci viene indicato che l'ingresso massimo analogico è di 2V RMS e che l'ingresso Fono supporta sia testine MM che MC. Poi ci viene indicato che l'ingresso ottico supporta un massimo di una risoluzione di 192 kHz a 24 bit e che l'ingresso HDMI ARC supporta solo i formati PCM, quindi niente Dolby, Atmos o altri formati vari. Poi ci vengono indicate tutte le varie compatibilità della parte di USB host, quindi della parte di pendrive USB. Poi ci viene indicato che il sample rate per l'utilizzo tramite PC è di 48 kHz, mentre poi l'uscita subwoofer ha un'uscita massima di 3V RMS e una risposta in frequenza che si stende fino a 250 Hz. Poi ci viene specificata la potenza dell'alimentatore 24V 4.16A, le dimensioni che sono circa 19 cm x 16 cm x 5 cm di altezza e il peso che è di 900 grammi. Andiamo ora ad aprire l'amplificatore per vedere come è realizzato all'interno. La procedura è molto semplice, basta infatti svitare le 4 viti sui pannelli laterali e possiamo vedere all'interno dell'amplificatore. Notiamo che ci sono due schede principali, una è attaccata al pannello anteriore e l'altra invece è praticamente a ridosso del pannello posteriore. Andiamo a vedere nel dettaglio la seconda che è la più interessante, notiamo infatti un piccolo dissipatore di calore sotto al quale è presente il chip di amplificazione, chip di amplificazione che non riesco a vedere ma dovrebbe essere il TPA3116. Il circuito mi sembra ben disegnato e anche ben realizzato. I condensatori più grossi sono anche fermati per evitare delle vibrazioni con della colla a caldo e questa è un'ottima cosa. Andiamo ora a vedere la parte delle misurazioni e come primo grafico vediamo la differenza della risposta in frequenza tra un carico da 4 ohm e un carico da 8 ohm. In particolare vediamo la curva azzurra che è la risposta in frequenza su un carico da 8 ohm e invece la curva viola è la risposta in frequenza su un carico da 4 ohm. Per quanto riguarda medie e basse frequenze le risposte sono praticamente uguali, sono solo scalate di circa 0,1 decibel e a 20 ohm abbiamo un'attenuazione di circa 1,5 decibel. Come per tutti i classi di economici invece la risposta in frequenza sulle frequenze alte cambia leggermente tra risposta su un 4 ohm e 8 ohm. Infatti per quanto riguarda gli 8 ohm la risposta è completamente piatta e lineare fino a 20 kHz mentre per quanto riguarda i 4 ohm abbiamo a 20 kHz un'attenuazione di circa 1,5 decibel. Questa curva è stata ottenuta utilizzando l'ingresso analogico dell'amplificatore e vediamo che dopo subito dopo i 20 kHz la risposta crolla verticalmente. Questo ci fa capire che viene effettuato una conversione in digitale del segnale audio analogico in ingresso e poi una successiva riconversione in analogico. E possiamo anche dire che per effettuare questo tipo di riconversione viene utilizzata una frequenza di campionamento di 48 kHz. La risposta in frequenza mi sembra molto buona e anche la dipendenza dal carico c'è però è molto limitata. Andiamo poi a vedere la differenza di risposta tra il canale destro e il canale sinistro entrambi su un carico da 8 ohm. Come possiamo vedere sono praticamente quasi sovrapponibili, c'è uno scarto di circa 0,1 decibel ma veramente cosa da poco quindi la differenza tra i due canali è davvero minima. In questo grafico in particolare con la curva azzurra andiamo a vedere invece l'effetto che fa la funzione Deep Bass e possiamo vedere che praticamente va ad aumentare le frequenze sui 40 Hz di circa 9 decibel. Passiamo a vedere poi l'effetto dei controlli di tono, più che altro andiamo a vedere in che zona vanno ad intervenire. Possiamo vedere che dalla curva nera in cui sono attivati i controlli di tono degli alti e dei bassi, in particolare abbiamo un aumento di 1 dB per il controllo di tono dei bassi e degli alti, possiamo vedere che il controllo dei bassi interviene dai circa 40 Hz fino ai 120 Hz, mentre il controllo degli alti inizia ad intervenire dai 3000 kHz in su. La curva blu invece è stata ottenuta con il controllo di toni medi attenuato di 1 dB e possiamo vedere che questo va a lavorare invece sulle frequenze centrate attorno ai kHz. Come ultimo grafico andiamo a vedere poi la risposta dell'uscita su buffer e possiamo vedere delle varie curve, la prima quella gialla che è ottenuta con l'impostazione del crossover a 50 Hz e invece infine quella azzurra, l'ultima, che è ottenuta con l'impostazione del crossover a 250 Hz. Ovviamente tutte le curve intermedie sono state ottenute selezionando dei valori intermedi di frequenza di crossover. Per quanto riguarda la potenza che ho riuscito a rogare nei miei test questo Arilic B50, stiamo parlando di una potenza di 33 W su un carico da 8 Ohm e una potenza di 48 W per canale su un carico da 4 Ohm. Le potenze sono state misurate con una THD massima dell'1% e con entrambi i canali in funzione. Quindi il risultato è molto buono e i valori non si scostano molto da quanto è dichiarato dall'azienda costruttrice nelle caratteristiche tecniche. Altri dati interessanti che sono andato a misurare sono la potenza che viene assorbita dall'amplificatore quando questo è completamente spento, è di circa 0.7 Watt, la potenza che viene assorbita quando l'amplificatore è in standby, che è di 1.3 Watt e la potenza che viene assorbita quando l'alimentatore è acceso e non vi è applicato segnale, che è di circa 3.4 Watt. Veniamo ora alle note d'uso e di ascolto. Per quanto riguarda le note d'uso, l'amplificatore è veramente molto versatile. Io l'ho utilizzato molto con l'ingresso HDMI ARC collegato al televisore, ma ho avuto modo anche di provarlo con il Bluetooth e in entrambi i casi è funzionato veramente molto bene. La possibilità di comandarlo sia dall'applicazione che dal telecomando è veramente molto molto comodo. Infatti quando avevo tempo a disposizione e volevo andare a modificare qualche impostazione andavo ad utilizzare l'applicazione. Quando invece avevo voglia di fare un ascolto molto più veloce andavo ad utilizzare il telecomando che era molto più pratico e veloce per pilotare l'amplificatore. Quando invece volevo utilizzarlo con il televisore, semplicemente per amplificare l'audio del televisore, utilizzavo l'ingresso HDMI ARC e quindi utilizzavo il telecomando del televisore. Tenendo conto che poi abbiamo anche la possibilità di avere un ingresso digitale ottico, un ingresso USB per utilizzarlo come scheda audio per un computer e anche la possibilità di riprodurre dei brani da delle chiavette USB, direi che la versatilità di questo prodotto è veramente più che ottima. Per quanto riguarda il suono, anche questo è di buon livello. Devo dire che secondo il mio punto di vista è in un gradino sopra rispetto all'A50 che ho provato in precedenza sul canale. Questo B50 mi è sembrato più raffinato sulle medio-alte e anche un suono più pulito. Le basse frequenze sono anche queste molto ben definite, molto profonde e anche abbastanza smorzate. Io l'ho provato con i miei soliti diffusori di test dalle TDL-RTL3. Secondo me questo è il prodotto giusto per chi cerca un piccolo amplificatore che faccia davvero tutto, quindi faccia sia da DAC, ti permetta di interfacciarsi col televisore e che ci permetta di costruire un piccolo primo impianto o un secondo impianto per chi ha già un impianto più importante. Si può interfacciare tranquillamente anche con diffusori da pavimento di grandi dimensioni. Ovviamente è ottimo per andare ad amplificare diffusori di livello entry-level. Sarebbe preferibile anche che non siano dei diffusori troppo poco sensibili, visto che la potenza che abbiamo a disposizione è comunque buona ma non enorme, quindi se abbiamo necessità di arrivare ad alti livelli di volume abbiamo bisogno appunto di utilizzare dei diffusori abbastanza sensibili. Un piccolo difetto che ho trovato sta proprio nel volume in sé, infatti ho notato che gli step di regolazione del volume sono troppo sensibili, infatti passando da uno step all'altro di volume il volume aumenta molto o diminuisce molto e quindi avrei preferito avere degli step intermedi per andare a regolare meglio il volume. E un altro piccolo difetto sempre riguardante il volume è dovuto al guadagno dell'amplificatore. La potenza c'è molta però il guadagno in volume non ne è moltissimo. Se andiamo ad ascoltare dei brani che sono registrati molto bassi come livello di volume possiamo arrivare al massimo del volume senza che l'amplificatore sia al massimo della potenza e quindi su questi particolari brani non riusciamo a raggiungere il nostro livello di volume desiderato che magari invece riusciamo a raggiungere con brani registrati a un volume normale. Passiamo ora ai voti finali. Per quanto riguarda la potenza ho dato un 7,5 per la risposta in frequenza un 8,5 per il suono un 8,5 per il design un 8 per la versatilità un 9,5 e per il rapporto qualità prezzo un 9. A proposito di prezzo questo Arilic B50 lo troviamo al prezzo di 139 euro su Amazon che a parer mio per tutte le funzionalità e la qualità che ci viene offerta è davvero un ottimo prezzo. Se poi non abbiamo bisogno dell'ingresso HDMI ARC e dell'ingresso Fono possiamo optare per la versione B50 SE che è una versione semplificata del B50 che monta la stesso chip di amplificazione ha comunque il controllo con l'applicazione quindi è semplicemente lo stesso amplificatore ma con due funzionalità in meno e qui il prezzo scende a 89,99 euro quindi questo forse ha un rapporto qualità prezzo ancora maggiore. Certo perdiamo l'ingresso Fono e l'ingresso HDMI ARC che sono due feature molto interessanti. Trovate in descrizione al video entrambi i link Amazon per andare a vedere i prodotti. Vi consiglio di andare a controllare infatti perché i prezzi di Amazon cambiano spesso e non è detto che il prezzo che vi stia dicendo ora sia quello esatto infatti io registro il video qualche giorno prima della data di uscita quindi il prezzo potrebbe essere cambiato vi consiglio quindi di andare a controllare. Vi ricordo che i link sono affiliati con Amazon quindi se voi decidete di acquistare questi prodotti o qualsiasi altro prodotto su Amazon passando dal mio link per voi il prezzo non cambierà assolutamente ma Amazon mi riconoscerà una piccolissima percentuale che mi può aiutare nel migliorare il setup con cui realizzo i video. Vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per voi è semplicemente un click per me è un grande stimolo a continuare a realizzare questi contenuti. Grazie e al prossimo video!